Buongiorno a tutti, da 10 santo non è qualcuno che riesce a dimozionare quando diamo un'esperienza della vita, e faccio riferimento al signore Spostolo Sino. Oggi siamo qui in questa prima sentita con un piano, e purtroppo qui abbiamo una legge all'assenza dei rappresentanti dell'ospedizione, ad eccezione ovviamente del sindaco Sino di Profezano, ma questo non ci era di attività, ma perché ha promuoto un'altra esplorazione tra cui io nel cui è stato sindaco, di rappresentare il rispetto per le istituzioni che non apprezzavano. Ci lascio maneggiare da un livello che è un ente di tutti i giorni, tra i quali sono stati indiretti, tra i ragazzi, i giovanissimi, e che oggi apprezzano l'opportunità di fare una prima esperienza di consiglio. Ci lascio maneggiare da un'attività di consiglio, che in caso di storia avrete potuto rappresentare le istituzioni di questa città. Adesso ci auspichiamo che nel prossimo futuro si possa cominciare con loro un lavoro di concentrazione su quelli che sono i veri problemi della città. Ci auguriamo che gli ostacoli che avrebbero invenuto molti per riuscire a una prima seduta del Consiglio Comunale possano essere rimosso nel più breve tempo possibile. Ci auguriamo che insieme ai rappresentanti dell'opposizione, ciascuno per l'opportunità, che si possa avviare un lavoro serio, porta ad affrontare i problemi di questa città, a partire dall'ambiente, per comprare l'atta della costruzione di un mondo, che ha avviato un lavoro già molto serio, che è un'attività, che sta andando a genti, tra i quali sono i miei amici. E questo però, questi sono i aidi che ci auspichiamo di poter affrontare in maniera e questo è il motivo per cui ci aspettiamo di comportarci con la percezione delle delle opportunità e questo è il motivo per cui ci aspettiamo di poter avviare dal nostro senso e per il primo del nostro mondo. Grazie. Allora, passiamo al secondo punto della decisione. Allora, passiamo al secondo punto della decisione.